ciao a tutti vi mostro come confezionare una cravatta di carta per la festa del papà prendiamo il nostro quadrato di carta facciamo una riga centrale come per formare due triangoli riapriamo il nostro foglio prendiamo un angolo del nostro quadrato e lo pieghiamo seguendo la piega centrale che avevamo fatto prima in questo modo ora stessa cosa con l'altro angolo giriamo il nostro lavoro prendiamo la punta che si è formata e la pieghiamo fino quasi alla metà del nostro foglio in questo modo prendiamo la punta e la pieghiamo ancora fino verso la metà in questo modo ora pieghiamo nuovamente giriamo il nostro lavoro e rifacciamo due pieghe seguendo sempre la linea centrale così e così a questo punto prendiamo questa piccola piega che si è formata e la spingiamo verso l'esterno in questo modo facciamo la stessa cosa da questo lato prendiamo un nastrino prendiamo la nostra punta infiliamo il nastrino infiliamo il nastrino rimettiamo la puntina al suo posto e la cravatta per la festa del papà è pronta per chi volesse farla con la carta bianca può poi disegnare colorare oppure scrivere qualche frase dedicata al papà augurandovi buon lavoro vi ricordo grazie a tutti grazie a tutti